Il bilancio sul primo anno di attività, presentati in una conferenza stampa gli atti e i provvedimenti adottati nell'arco dei primi 12 mesi, ma anche i nuovi progetti e gli strumenti a servizio dei cittadini. Modifica dello statuto, l'aula approva un sottosegretario e sette membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio. È passato un anno dalla seduta che ha insediato un nuovo Consiglio regionale della Toscana. Così, nella giornata di martedì 19 ottobre, nella sala consigliare di Palazzo del Pegaso, ha avuto luogo una conferenza stampa per presentare i primi 12 mesi di attività. Nel bilancio, numero di presenze, atti e provvedimenti adottati, ma anche i principali temi trattati a partire dal lavoro e dalle misure a sostegno dei giovani. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di presidenza, i capi gruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori, ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero, sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo, fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero, e fino in fondo, la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione, attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. Da ora ci sarà un nuovo sito, inconsiglio.it, in cui sarà possibile seguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Consentitemi di ringraziare i presidenti delle commissioni. Non era facile lavorare a distanza, come vedrete dai numeri, hanno prodotto un lavoro enorme e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Noi, come ufficio di presidenza, abbiamo provato, lì dove la Giunta non ce la faceva, anche a sostenere. Penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge. Anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo quest'idea su cui stiamo lavorando, di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050. La Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. È una sfida complicata, ma sono certo che con l'impegno di tutti i colleghi e di tutte le colleghe saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono. Un bilancio di un anno importante, va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consigliari, che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo in un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia e nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra Giunta regionale. Iniziative legislative, credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita, fondamentalmente di collaborazione, nel distingo dei ruoli. Quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti. Penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione, l'importanza e il sostegno al nostro Presidente, e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli itali legislativi importanti. e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra, che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di Presidenza ho spiegato, trovando una sensibilità per l'altro comune, è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. Questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, di ritorno un po' alla normalità quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente, aperta, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente, debitamente informati di quelle nostre attività. Ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta, partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. auspichiamo che vi sia sempre più lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni e questo è fondamentale proprio perché tutto si deve svolgere secondo quello che è la nostra tradizione repubblicana e democratica. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato la modifica dello statuto che si avvia verso l'istituzione di un sottosegretario e di sette membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Un sì arrivato con ampia maggioranza nell'ambito di un lungo dibattito dove non sono mancate critiche da parte dei consiglieri. Io sono davvero contento, nel senso che mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli. Non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo, perché provocava un aumento di costi e siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale, tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario. A me questo interessa il giusto. A me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi, quelli più caldi ora, penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Esattamente come per l'Ufficio di Presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche o quasi tutte o più forze politiche siano rappresentate. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio. Abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso. Perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo Statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità. E su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Per cui, dopo diversi mesi che questa proposta giaceva lì senza essere trattata, siamo arrivati alla prima approvazione, perché poi dovrà esserci la seconda lettura, che ritengo possa comunque dare un contributo per poter lavorare meglio nell'ambito dell'esecutivo. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, beh, che riteniamo inconcepibile, il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa, esclusivamente sapendo che si eleggeva un Presidente, che poteva nominare otto assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani, io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani, ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio, che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura, daremo battaglia da qui alla seconda lettura, che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. C'è da dire che il testo da come usciva di giunta è stato totalmente stravolto, noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore, né due sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini, questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo, quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto, abbiamo visto il Presidente di Commissione che poi era quello che doveva fare il non-assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare, abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni, quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena anche perché mi sembra di capire che la Giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. Io spero che la Giunta abbia capito che il potere legislativo spetta il Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri. Abbiamo visto un dibattito che se un osservatore esterno fosse arrivato in Consiglio regionale ieri si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato perché abbiamo visto una modifica dello Statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vice Presidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente è in questa direzione cioè tutela maggiormente il Consiglio due a costo zero. Le reforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Fa sottolineato però perché è doveroso farlo che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7500 euro l'una e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle pensate. Grazie a tutti i nostri spettatori